Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 379, votanti 377, astenuti 2, maggioranza 189, favori 99, contrari 278. La Camera respinge 35, Crippa. Se nessuno intende intervenire, con il parere Crippa. Grazie, Presidente. Brevemente chiedo al Governo di valutare un attimo questo ordine del giorno, perché di fatto qua chiediamo soltanto di prevedere forme di indennizzo per quelle amministrazioni pubbliche che si troverebbero, come nel caso di Taranto, siano l'ASL, il Vigile del Fuoco, il rispettorato del lavoro, a dover gestire un carico di lavoro ulteriore. Io ricordo a tutti che già in audizione i dirigenti dell'ASL lamentavano la mancanza di risorse per dover gestire un controllo di un'azienda così complessa. Noi qua stiamo dicendo che quando ti sequestrate per ragioni inerenti alla sicurezza sul lavoro, quantomeno prevedete una sorta di indennizzo economico che vada a coprire le ulteriori attività che questi enti pubblici debbano svolgere. È inutile che ogni volta inserite una clausola di invarianza economica nei loro compiti istituzionali, perché continuate ad aggiungere compiti sottraendo di volta in volta, di anno in anno, sempre più risorse. Noi vi stiamo dicendo che se ci sono delle aziende che vogliono perseguire le attività di dissequestro per ragioni legate alla sicurezza del lavoro, come nel caso dell'ILVA di Tardo, quantomeno fate pagare un indennizzo. Non mi sembra, tra l'altro è un ordine del giorno, un qualcosa di estremamente vincolante e così assurdo, tale da non poter essere nemmeno accolto. La ringrazio. Grazie a lei. Con il parere contrario del Governo, numero 35, Crippa, la votazione aperta. Il parere contrario del Governo, Montroni, ci siamo? No, Grillo, Piccoli Nardelli, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 384, votanti 372, esternuti 12, maggioranza 187, farò di 91, contraria 281, la Camera respinge. 36, Cancelleri, ho bisogno di sapere se accetta la riformulazione. Onore Crippa, accettiamo la riformulazione per l'onore Cancelleri? Quindi è accolto e non lo mettiamo in votazione. 37, Cominardi, c'è una proposta di riformulazione. Non l'accetta, lo mettiamo ai voti con il parere contrario del Governo. Non l'accetta, lo mettiamo ai voti con la riformulazione. Non l'accetta, lo mettiamo ai voti con i 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 voti. Grazie.